ed eccoci pronti per una nuova puntata di parola al direttore bentrovati a tutti voi e un saluto naturalmente al direttore editoriale di libero vittorio feltri vittorio un piacere ritrovarti è un piacere per me essere qui davanti a te e allora direttore mi verrebbe da partire da questa considerazione che non ci facciamo mancare nulla perché dopo il covid effettivamente nelle ultime puntate abbiamo parlato essenzialmente di questo adesso il covid è ancora presente ma insomma abbiamo imparato un po gestire abbiamo imparato a vivere la nostra quotidianità però dopo il covid è successo di tutto e l'inflazione e la guerra in ucraina insomma appunto non ci facciamo mancare niente partiamo da qui purtroppo le cose non vanno sempre lisce qualche volta vanno vanno anche molto storte da qualche anno in qua stiamo vivendo nella sfiga come dice chi parla bene e comunque col covid anche se continua a romperci le scatole bisogna dire che abbiamo trovato il modo per combatterlo tant'è vero che diciamo le vittime mi sembra che siano non solo calate ma quasi scomparse del tutto quindi va bene è chiaro abbiamo avuto i nostri problemi però li abbiamo risolti e credo che non molti altri paesi abbiano fatto meglio di noi quindi almeno sotto questo profilo abbiamo poco da lamentarci d'altronde i virus ci sono fanno parte della natura e quindi vanno combattuti se c'è la possibilità di farlo va tutto bene fintanto che però si barcolava nel buio è chiaro che il virus faceva vittime tutto spiando diciamo che è un po quello che abbiamo sempre detto dobbiamo imparare a convivere con il virus perché ovviamente non potevamo pensare che da un giorno all'altro se ne andasse ma è però abbiamo preso un po le misure e allora visto che parto da questo concetto non ci siamo fatti mancare niente dopo arriviamo alla fotografia della politica di oggi perché ci sono molte cose da dire e molte cose che voglio chiederti come stiamo gestendo la situazione in ucraina sia come europa che come italia partiamo da qui che appunto questo è il tema di attualità vero io credo che l'europa sia incoerente ma anche perché è composta da 27 paesi ciascuno dei quali ha la propria lingua le proprie tradizioni le proprie abitudini la propria economia e tutto questo impedisce un'amalgama tra i 27 paesi ma del tutto è evidente per cui anche quando ci si tratta si tratta di mettersi d'accordo per mantenere un atteggiamento internazionale diventa difficile andare d'accordo questo mi sembra del tutto evidente per quanto riguarda l'italia secondo me secondo la mia opinione non è stata abbastanza incoerente perché è riuscita a approvare le cosiddette restrizioni le sanzioni alla russia che danneggiano noi che le mettiamo più che la russia che che le riceve e questa mi sembra una sciocchezza tant'è vero che non abbiamo più il gas o comunque siamo in procinto di non riceverlo più per quanto riguarda il petrolio siamo lì più o meno e quindi per quanto riguarda il grano idem se questi sono i risultati io credo che con la russia si poteva trovare anche qualche accordo perché la russia non è in guerra con noi è in guerra con l'ucraina cosa bruttissima io sono d'accordo con chi critica putin perché ha fatto questa azione militare speciale sicuramente non mi garba perché le aggressioni non entrano nella mia mentalità però attenzione non riesco a capire cosa sentiamo noi nulla contro la russia e quindi potevamo continuare ad andare d'accordo per quanto riguarda le richieste di della ucraina di forniture di armi eccetera mi sembra tutto un po' abbastanza strano perché se non hai neanche le tue armi per combattere contro la russia vai a trattare con la russia per finire questa aggressione che ha provocato delle catastre dei morti le città si sono ridotte accumuli di macerie mi sembra che voglio insistere con questa guerra stia danneggiando soprattutto l'ucraina danneggia anche la russia perché molti morti sono anche russi assolutamente nelle guerre si muore sui due fronti assolutamente si senza poi parlare del discorso economico appunto le sanzioni quindi mi pare di capire diciamo che dovevano essere un'alternativa alla risposta militare però poi c'è tutto il tema dell'invio di armi quindi in realtà anche la parte militare l'abbiamo l'abbiamo seguita insomma come come adesso io non so esattamente le forniture di armi se fossero ingenti o meno questo non ho notizie so che gli americani ne hanno fornite parecchie e non si capisce che cosa accentuano gli americani con la russia l'ucraina anche questo io non lo capisco gli americani fa l'altro che vogliono fare delle elezioni di democrazia e di correttezza io vorrei ricordare che hanno i primi a usare la bomba atomica sono stati loro in giappone a hiroshima ea nagasaki producendo centinaia di migliaia di morti eppure vogliono processare putin come a norimberga no a norimberga dovevate andarci voi cari americani che avete fatto uno sterminio poi non solo ma gli americani che tutti lodano noi per primi che siamo atlantisti eccetera attenzione sono stati in vietnam dove ne hanno combinate di tutti colori e non si capisce perché cosa centrassero con vietnam poi non è finita con l'irac anche con l'irac è successo di tutto addirittura hanno ammazzato saddam hussein che che è uno ma poi ne hanno ammazzati tantissimi poi sono andati in afghanistan e hanno combinato il disastro che tutti sappiamo quindi loro non possono dare lezioni di democrazia a nessuno devono solo e poi anche adesso nel loro paese si ammazzano che non piacere poi se c'è un negro lo trattano come con tutto il discorso delle armi io non ho tutta questa stima degli americani come diciamo padroni della democrazia in grado di esportarla la importino e allora ti chiedo questo per chiudere il discorso poi passiamo ad altro questo fronte comune dell'occidente di cui si parla no per andare come avrebbe dovuto essere secondo te so che non abbiamo noi la soluzione in tasca è molto difficile io dico sempre una cosa che nasce da un proverbio bergamasco dove dove io sono nato a biancamo insomma se ciascuno si facesse i cazzi propri non ci sarebbero più neanche le guerre purtroppo sì ma mi viene da dire lo so molto molto in modo retorico tra il dire e fare c'è di mezzo al mare quello è un po la regola che anche nella vita normale cioè se tutti guardassero alle loro affari ecco io ho usato un'altra espressione ma sei stato chiarissimo come sempre ti ringrazio perché la chiarezza a prescindere da quello che si pensa io credo che sia sempre ben accetta a questo punto collegamento abbastanza ovvio la politica in tutto questo come si sta comportando ora ci possiamo basare un po anche in vista delle future elezioni dell'anno prossimo delle politiche sui risultati elettorali a delle amministrative che danno sempre una minima indicazione ma secondo me ancora di più dopo questi due anni tre anni di covi di in cui tutto sia un po mescolato è la fotografia che ne esce non è molto edificante nel senso che abbiamo l'astensionismo ha sempre che ha raggiunto un altro record la sinistra che nella lettura dei principali analisti vince perché si aggiudica più comuni la destra e qui magari partiamo da qui conte direttore divisa non convince cioè non porta a casa risultati ecco partiamo da questa divisione se mai non mi sembra che anche a sinistra non siano divisi visto quello che è successo nel movimento cinque stelle che era già un partito in declino ed è riuscito anche a spaccarsi con l'iniziativa di di mai va benissimo io non ho niente da dire comunque anche lì le cose non sono così diciamo floride come come sembra fra l'altro il numero dei voti che ha raccattato il centro destra in questa ultima tornata elettorale è superiore ai voti che ha raccolto la sinistra quindi siccome i voti si contano e non si pesano anche di questo bisogna tenere conto poi naturalmente io so benissimo perché il centro destra non funziona perché salvini ha perso completamente lucidità e vuole continuare a essere un po il leader del gruppo quando invece ha perso anche un po la propria reputazione però lo sappiamo tutti questo l'unica che capisce tutto è la meloni è che però siccome è una donna e poi dicono che è di destra che è fascista eccetera quindi non fanno che attaccarla berlusconi ormai è ridotto al lumicino quindi è evidente che se si vorranno vincere le elezioni nella prima vela del prossimo anno bisognerà lasciare il pallino e mano e mano la meloni allora avremmo delle speranze avrebbe la destra delle speranze e di vincere altrimenti non credo che poi la sinistra sia così così forte perché nel momento in cui si dovesse tornare a votare il movimento sin quest'era non prenderebbe molti voti poco niente qualche voto residuali diciamo in questo momento ci sono dopo dopo che di mai ho lasciato insomma ci sono tutte delle riflessioni anche delle liti interne eccetera e poi poi c'è tutta la pletora dei partiti che vogliono essere centristi tutti dicono di essere centristi ma il centrismo se non viene esplicitato in una formula politica non si capisce cosa sia quindi non è che la situazione politica in italia è un disastro perché c'è stato uno scadimento proprio della qualità della politica tanto è vero che insomma anche quattro anni fa quando si andò a votare per le politiche il movimento 5 stelle raccorse il 33 per cento dei voti che è uno sbandello ma chi è che degli adatti questi voti che il popolo italiano quindi il popolo italiano deve stare zitto e fare mea culpa perché poi è successo anche di peggio in passato quando siamo andati a votare per il referendum sul nucleare per ben due volte l'abbiamo bocciato e chi è che l'ha bocciato e adesso siamo gli italiani adesso siamo in questa situazione fino a qui sono stati gli italiani quindi attenzione gli italiani non devono tanto brontolare devono fare appunto il mea culpa che hanno fatto delle cazzate molto loro senti dopo ti ti leggo un po di dichiarazione poi passiamo ancora un altro tema però questo vuoto di quattro anni fa al movimento 5 stelle che effettivamente ha permesso al momento 5 stelle di governare e non solo di avere davvero molti numeri in parlamento che ci sono anche oggi insomma perché il primo partito è il primo partito nel paese non c'è più però anche lì se partiamo dalla considerazione che purtroppo la politica delude un po sempre gli italiani ai tempi quattro anni fa il momento 5 stelle si posiziona ok questa è un'altra lettura il momento 5 stelle però quattro anni fa si posizionava come novità nel panorama politico quindi mi vien da dire non non era non è stato giusto in qualche modo dare fiducia a un partito nuovo visto che il resto della politica comunque aveva disilluso anche le aspettative degli italiani oggi dobbiamo fare effettivamente un altro ragionamento che quello per cui il momento 5 stelle si è spaccato perché di quando le cose vanno male non puoi scegliere il peggio devi scegliere il meglio e in quell'occasione si sceglie il peggio tant'è vero che abbiamo visto come sono andate le cose poi anche la vicenda di draghi quella lì andrebbe esaminata perché oggi cosa succede che draghi è appoggiato da una diciamo maggioranza che è costituita dal pd si dai 5 movimenti 5 stelle sono diventate 10 stelle e poi da anche dalla lega è un pasticcio è un pasticcio è chiaro che attualmente questa maggioranza non riflette il paese che ha altri altri gusti mutatici quindi io credo che davanti a una discresia di questo tipo bisognerebbe tornare a votare invece figurati se mattarella la dichiarazione che ti volevo sottoporre quella invece del segretario del pd letta che ha parlato di modello l'ulivo per il campo largo per combattere i populismi che non vuol dire niente no scusa mi stavo dicendo la stessa cosa che detto così insomma lascia un po il tempo che trova perché non vuol dire molto però c'è sempre questa parola populismo appunto che ormai è diventato un concetto talmente astratto che appunto poi è lì che non c'è alcuna direzione da parte della politica poi bisognerebbe anche diciamo conoscere il valore delle parole perché populismo è praticamente sinonimo di un popolare non ha un'accezione negativa originariamente il contrario non ci vedono niente di strano dopo di che naturalmente se gli vogliamo dare un altro significato ci adattiamo anche al mutamento del valore delle parole che ormai col politicamente corretto qui bisogna stare attenti a come si parla più che a quello che si dice è vero ecco direttore un'altra cosa tu hai twittato torniamo su salvini povero salvini ormai ha perso la testa se la faccia prestare dalla meloni ma questo è evidente insomma perché il discorso di salvini si fa in tre in tre minuti salvini è entrato nel primo governo di conte insieme con il movimento 5 stelle bene o male hanno tirato avanti sono riusciti a combinare qualcosa come ministro all'interno salvini è stato bravissimo tant'è vero che la sua lega è passata da 16 per cento a 34 per cento alle elezioni europee vuol dire che il popolo lo ha premiato riconoscendo in lui una guida sicura e forte chissà perché a un certo punto lui è uscito da quel governo senza spiegare perché che si può uscire agosto famoso certo ma non ha spiegato i motivi così ho detto ma perché cinque stelle dicono sempre no no che cosa non si sa vabbè comunque se n'è uscito è rimasto fuori e per quale motivo si dice che lui sperasse di tornare a votare ma prima di sperare di andare a votare non è che devi lasciare il governo devi valutare la situazione andare da mattarella a spiegargli che così non si può andare avanti eccetera eccetera non lo ha fatto passa un anno un anno e mezzo due e si tratta di fare un altro governo perché quello preesistente non funzionava più c'erano dei problemi benissimo allora che cosa succede succede che tornano i cinque stelle che non tornano non se ne erano mai andati sono rimasti lì è tornato addirittura il pd e però è tornata anche la lega senza spiegare perché che senso hanno avuto tutte tutte queste giravolte eccetera nessun senso e hanno diciamo colpito molto l'elettorato di leghista che che in effetti ha abbandonato il partito adesso i voti vanno ai fratelli d'italia abbastanza ovvio come passaggio direttore ancora un paio di cose però secondo me importanti intanto ti volevo chiedere se tu sei allarmato torniamo al discorso che stavamo facendo in apertura dal tema del gas adesso si parla anche di razionamento dell'acqua vabbè quello a causa della siccità ovviamente ci sono altre altre problematiche però insomma sono tutte cose che vanno a colpire la quotidianità l'economia quotidiana delle persone è sempre colpa della politica perché ad aumento che l'acqua ci sarebbe solo che il 48 per cento dell'acqua si disperde perché sono brutte e rotti gli impianti mai nessuno però è intervenuto per impararli allora io credo che forse la priorità non era il reddito di cittadinanza ma a garantire almeno l'acqua alla gente no ci sono delle priorità e questo non è stato non è stato assolutamente fatto poi ci sono altre situazioni il gas il gas perché non c'è perché noi ne abbiamo tanto in italia ma non abbiamo la possibilità di trivellare perché il popolo italiano si oppone adesso quanto siamo coglioni che questa è la verità bisogna poi dirla no allora non si può fare poi io per esempio a casa mia visto considerato che l'energia tende a scasseggiare o sul mio sul tetto della mia casa ho messo i pannelli fotovoltaici non è sì ho speso mi pare 45 milioni euro o qualcosa del genere però almeno mi garantisco un'autonomia benissimo tutti i lavori sono fatti tutto l'impianto è a posto la burocrazia non mi dà il via ma mi rendete conto che siamo nelle mani di burocrati idioti volevo arrivare bene anche tutti i siti appunto che ho parlato del gas molti sono bloccati perché le le pratiche amministrative bloccano tutto quindi torniamo al tema della della burocrazia ha quindi insomma tu hai dato una mano all'ambiente è dato una mano a te stesso alle tue tasche ma non può farlo perché è certo questo poi era qui questo ci fa tornare poi alla disillusione e al fatto che la gente non vada più a votare però non capisce più esatto e invece un tempo ripeto le responsabilità non sono soltanto della politica perché la politica l'espressione del paese c'è un paese di imbecilli anche il resto ma quindi scusami e se allarmato dalla situazione economica perché poi questo sì sì insomma ma io per fortuna non ho problemi per cui sai non è che proprio viva con l'italia per il paese il paese anche a farsi bene dire che è un paese di cretini è chiaro che deve fare la fine che si merita ecco adesso torniamo per un istante oltreoceano abbiamo già parlato dell'america ma volevo chiedere il tuo parere rispetto alla decisione della corte suprema che ha annullato il diritto all'aborto cosa significa questa decisione nel 2022 secondo te niente perché non cambia nulla nel senso che diciamo l'aborto parliamo dell'america ovviamente lo stesso si 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 vale anche per noi l'aborto ormai è diventato una una legge nazionale diventa difficile abolirla però negli stati uniti dove ogni stato ha la propria autonomia ciascuno farà come come crederà quindi l'alta corte ha dato un'indicazione di massima quindi per l'amor di dio tutto questo allarmismo non lo capisco poi non riesco a capire come mai ci si preoccupi sempre delle donne che è giustissimo e mai dei bambini perché le donne fanno i bambini e la sacralità della vita comincia nel grembo materno non quando il bambino è uscito se vogliamo essere almeno coerenti no 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 sono d'accordissimo io per esempio ho avuto anche un'esperienza di questo tipo con mia moglie perché avevamo già tre figli mia moglie rimane incinta lavorava e cioè come faccio col quarto quarto figlio che si pensava fosse un maschio andare avanti non ce la facciamo eccetera allora l'aborto ancora non era permesso però perché non c'era stato il referendum certo anch'io capivo le sue ambasce eccetera e abbiamo pensato andiamo in svizzera perché in svizzera era possibile fare l'aborto allora io prendo anche appuntamento con una clinica in svizzera per fare finché una sera arrivavamo a tavola mancava due o tre giorni a fare l'aborto e mia moglie mi dice ma sei sicuro che stiamo facendo una cosa buona certo sono sicuro che stiamo facendo una puttanata dentro così lei si sa piangere ho preso la mano e non abbiamo fatto no certo certo adesso questa è nata una bambina che ha due lauree no 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 vabbè certo ma è stato il momento più ma è così è il ragionamento che fanno in molti assolutamente assolutamente fare l'aborto nega cosa uno scherzo perché se tu potessi chiedere al bambino no come si fa con la brutta nasia vuoi morire no 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 assolutamente adesso sono giù era giusto parlare no no bambino si uccide però butti nella spazzatura madre di sembra una roba una roba da fare a cuore leggero io non dico che si debba abolire l'aborto perché in certi casi è fondamentale in certi casi non in tutti i casi sai quanti quanti aborti sono stati fatti in italia da quando è stato introdotto il numero preciso non lo so 6 milioni una strage l'ultima cosa che alleggerisce anche se mi ha fatto piacere parlare con te di questo e grazie anche per la tua esperienza personale perché poi le esperienze personali aiutano proprio anche a capire anche la psicologia esatto quindi questo è sicuramente molto importante drammatizziamo con il niente sesso prima del matrimonio che arriva dal papa tra l'altro che sia una stupidaggine perché il problema è un altro è che il sesso lo fai prima del matrimonio dopo il matrimonio non lo fai più perché ti rompi l'estate mi sembra un discorso così così sciocchi no vabbè io li ho ovviamente poi il sesso non è mica non bisogna sopravvalutarlo non è mica tutto sì chi ha voglia lo fa chi non la voglia non lo fa ma non è che sia una scelta insomma ma sì ma poi non è decisivo no 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 diciamo che sono diventato vecchio ormai ho dell'antico variato diciamo che ho comunato le due questioni che sono sicuramente di importanza diversa e penso che i telespettatori lo capiranno ma perché mi sembrano entrambe un po' anacronistiche perché si riferiscono a delle situazioni ormai superate insomma anche evolute no nel corso del tempo in quella che è la società è esatto quindi ripeto con una sicuramente uno spessore diverso perché sono due questioni che non si possono associare però va bene io ti chiedo come sempre se abbiamo dimenticato qualcosa al di là dei nostri appuntamenti che ormai va bene non ci sono più perché tutte queste cose la guerra ma noi ci ritroviamo sempre qui però questo è un appuntamento che non può mancare tanto che Putin non ci butta una bomba no 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 eh no questo è questo bisogna bloccarlo perché altrimenti non mi piace va bene direttore grazie come sempre per essere stato con noi alla prossima puntata di parola al direttore grazie a vittorio feltri